Se vi state chiedendo che cosa tutto questo significò nel concreto, vi anticipo che la risposta è semplice. Si trattava di porre le basi della società nella quale viviamo oggi. Un esempio? La politica, per cominciare. Una politica a misura di massa deve garantire un'ampia partecipazione popolare. Nel concreto, questo avvenne anche grazie all'estensione del suffragio elettorale a fasce sempre più larghe della popolazione. Grazie a tutti.